e oggi celebriamo la giornata conclusiva della National Multicult Competition che è una simulazione processuale che è organizzata ogni anno da Elsa Italia ed è a livello appunto nazionale poiché coinvolge studenti di giurisprudenza provenienti da tutta Italia e oggi è la giornata conclusiva perché si svolgerà in mattinata alla provincia di Salerno la semifinale e la finale di questo evento che dura quattro giorni durante i quali i ragazzi si sfidano prendendo le parti degli avvocati difendendo e attaccando e la bellezza di questo progetto sta nella possibilità per i ragazzi di interfacciarsi con quella che è la realtà che un giorno ci troveremo a vivere e che ci coinvolgerà e quindi diamo modo con anche la messa a disposizione di premi per i ragazzi che vinceranno premio per migliore oratore o premio per la migliore squadra e quindi è un'iniziativa che permette loro di cimentarsi in qualche modo per andare a colmare quel gap tra il mondo universitario e poi il mondo del lavoro però allo stesso tempo divertendosi e avendo anche modo di vincere dei premi grazie a tutti